Porrello, Virginia Raggi è fresca inquilina del Campidoglio, tuttavia si fa un gran parlare in questi giorni anche in toni molto accesi, un po' critici del direttorio che ha alle sue spalle. Lei che ne pensa? Il direttorio è una struttura che veramente serve solo ad aiutare Virginia. Noi siamo tranquilli perché Virginia è lì da poco tempo, da un mese, e già abbiamo visto come si sta spendendo sul territorio, andando a constatare di prima persona situazioni gravi che permangono sul territorio da anni. Noi siamo fiduciosi perché sappiamo che Roma è una sfida importante, sappiamo che davanti abbiamo un colosso da abbattere. Noi vogliamo che Virginia vada avanti nel migliore dei modi e ci avrà tutto il supporto, sia che si chiama direttorio, sia che si chiama dei semplici consigli regionali o nazionali parlamentari che vorranno assistere Virginia in questa grande sfida. Il piano Raggi, reso noto in questi giorni anche dalla stampa, prevede tre direttive. La gestione dei rifiuti, dell'emergenza traffico, un recupero della trasparenza. E questa è una soluzione? Questi tre temi che le tocca, due sono quelli fondamentali e importanti. ATAC, quindi trasporti, AMA e quindi rifiuti. Sono due emergenze che la città di Roma è abituata purtroppo a vivere da troppo tempo. E Virginia e Raggi, insieme a tutta la squadra della sua giunta, a tutti i consiglieri comunali che daranno una mano, hanno individuato in questi primi due punti, due punti fondamentali dove agire. E vedrete che col tempo, se si riuscirà a sistemare questa situazione, vedrete come la città cambierà volto. I trasporti, maggiore efficienza significa migliore mobilità. Rifiuti significa non vedere a volte quelle scene poco decorose, dobbiamo dirle, che purtroppo sono dettate da una serie di fattori. Più trasparenza. La trasparenza è quello che aiuta a fare tutto per bene. Se io sono trasparente e faccio tutto in pubblico, ogni persona può vedere il mio operato, sicuramente potrà vedere la bontà anche delle azioni che Virginia, la sua squadra, quindi la giunta e tutto il consiglio comunale faranno da qui nei prossimi cinque anni. Sempre in tema di trasparenza, passiamo dal microcosmo di Roma Capitale alla macrodimensione della regione Lazio. Buffer alla Pisana per quanto riguarda l'inchiesta mafia regionale, che si è sviluppata parallelamente, anche se poco tempo dopo, rispetto a mafia capitale. Un commento a caldo su questo. Mafia regionale, l'ha detto già lei, significa che non tutto si fermava alla capitale, significa che questo sistema è più esteso di quello che Zingaretti in primo momento voleva far credere. Abbiamo visto come avvisi di garanzia arrivano con puntualità anche a diversi consiglieri della maggioranza del PD di questa regione. Dobbiamo solo prenderne atto e ogni volta noi facciamo vedere a Zingaretti che effettivamente non deve mettere la testa sotto la sabbia, ma affrontare queste discussioni anche col consiglio regionale, anche se lui a volte cerca di sviare un po'. Grazie. Grazie.